Bressanone che manovrerà da sinistra a destra dei vostri teleschermi con il completo verde mentre invece Buzzamini si alza dal nulla, Davide Buzzamini Finta di andare da un compagno, va fino in fondo Giacomo Savini con salvato il 5-1, buono a giocare da parte di Buzzamini Poi trova un gol, pazzesco Davide Buzzamini Difficile, alza da volante ma che parata da parte di Matevolarevic Grazie a tutti